Padre Gigi Maccalli è vivo e sta bene, fanno sapere i religiosi della SMA, Società delle Missioni Africane. Il tempo che passa, l'apparente silenzio, la mancanza di notizie, non devono essere interpretati come segno di inattività, si legge in una nota diffusa ieri dai confratelli di padre Maccalli, 57 anni, sequestrato in Niger il 17 settembre scorso. I missionari della SMA hanno ricevuto un messaggio del Vescovo di Niamè, Monsignor Loran Lompò, e chi lo ha recapitato ha aggiunto, il Vescovo non ha potuto dirci, per motivi di sicurezza, su quali elementi fonda questa affermazione, ma ci ha chiesto di credere che lo dice con tutta sincerità e verità. Queste parole hanno rinforzato la speranza dei missionari della SMA, i quali aspettano che torni presto a casa padre Gigi Maccalli dal 2007 in Niger, soprattutto per l'evangelizzazione e la promozione umana nel sud-ovest del paese africano. Le autorità del Niger e la diplomazia italiana stanno lavorando affinché la vicenda si conclude in modo pacifico, senza mettere in pericolo la vita del missionario italiano. Stessa modalità in Kenya per liberare Silvia Costanzo Romano, la volontaria italiana di 23 anni, sequestrata il 21 novembre scorso nell'area di Chiacama, 70 chilometri ad ovest di Malindi. Questa è la foto che ritrae le trecce della ragazza ritrovate nella foresta dove si stanno concentrando le ricerche della polizia del Kenya. Gli investigatori al momento hanno arrestato sei persone ritenute complici del sequestro di Silvia Romano, due delle quali catturate mentre tentavano di consegnare scorte di cibo ai rapitori, come riporta il quotidiano locale The Nation. Grazie a tutti.